Anna dai capelli rossi va, volerà come una rottile, però un mino non ce l'ha, non ho una mamma né un papà. Anna dai capelli rossi ha, due gambe di felicità, chiusi dentro all'anima, nel mondo può sorridere. Che meraviglia avere canto di tale cosa per me, che lei rivela una grande lucciola intorno a me, con me. Che meraviglia sulla calena che fa leggera sui giù, e canti amici tutti stessi uniti intorno a me. Anna dai capelli rossi ha, un cappello sulle 23, e i tuoi occhi limpidi, è un mare di lenticini. Un giorno di novembre, la signorina stessi portò le ragazze tredicennie sulle rive del lago, facendo molte raccomandazioni a proposito del futuro. Tornando a casa, Anna disse... Il bosco è stupendo in questa stagione, ora che le foglie sono cadute e gli alberi sono spogli. Guarda, Diana, tutte le piccole piante, le felci, le corne o le nane, i vari cespugli sembrano addormentati. È come se stessero sotto una coperta di foglie, in attesa della primavera. Forse è stata una vecchia fata con una sciarpa d'arcobaleno, venuta in punta di piedi in una notte di luna piena. Tu credi sempre che tutto sia opera delle fasi? Oh, ma senti, Diana, bisogna lasciare spazio all'immaginazione. Sì, ma vedi, ormai siamo troppo grandi per continuare a giocare con la fantasia, non ti pare? Ma in queste cose non significa niente avere più o meno anni, Diana. Anche la signorina stessa ha sempre affermato che è molto importante coltivare la fantasia. Sì, però oggi ha anche detto che dobbiamo sforzarci di pensare al futuro, cercando di sviluppare noi stessi un senso di responsabilità più preciso. Se proprio vuoi fantasticare, fai almeno dei progetti per la tua vita futura. Pensa, che so, al matrimonio. Al matrimonio? Sicuro? Ma Diana, senti un po', non ne avevamo parlato giusto l'altro giorno, promettendoci che non ci saremmo mai sposate e che saremmo vissute insieme fino alla morte. L'ho detto perché Ruby non faceva altro che parlare di fidanzati. Vedi, non ci ho ancora pensato seriamente. Del resto credo che sarebbe altrettanto nobile il proposito di sposare un uomo selvaggio, ribelle, impetuoso, avendo l'intenzione di trasformarlo. Ma certo, è un'idea fantastica. Avresti uno scopo nel matrimonio. Lo pensi davvero? Credimi, sono felice per te e della decisione che hai preso. Anche se mi sentirò sola, perché io invece ho deciso di non sposarmi mai e di vivere sempre dell'amicizia che ci lega. Ma come? L'ultima volta hai detto che volevi sposare un missionario laico e andare oltreoceano. Ma quella era una fantasia. Forse nemmeno esiste un missionario come lo voglio io. Vedrai che esiste. Chissà, neanche tu puoi essere sicura di trovare il tuo ideale. E in ogni caso dovremo vivere da sole fino a quel momento. Ecco. Confessa, tu vuoi sposarti anche se non lo incontri. No, non voglio dire questo però. Oh, la verità è che tu sei proprio come Ruby. Ho saputo da Jane che avevi uno sguardo deliziato quando Moody Spargon ti ha accompagnato a casa dopo la scuola domenicale. Oh, Anna, e tu credi a simili chiacchiere? Sì. Anche perché ho notato che hai cambiato il modo di sorridere in questi ultimi tre giorni. Benone. Allora ti dirò che non me ne importa niente di Moody, ma se capita l'occasione mi fa piacere che mi accompagni. Vedi, hai intenzione di sposarti in ogni modo, altro che storie. Preferisci la compagnia dei ragazzi alla nostra amicizia, non è così? Perché mi dici così? La nostra amicizia è importante, ma non puoi impedirmi di rivolgere la parola ai ragazzi solo perché sei in collera con Gilbert per il tuo stupido orgoglio. Basta, la nostra amicizia è finita. Anna! 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 Mathew! Salve, Jerry, il Mathew non è ancora tornato? No, io sono venuto prima a portare questa roba Ah! Senti, non era mica quella che era sul barile Perché gridi, te l'hai rimessa da parte? No, no, non è per questo, Anna Dio mio, che disgrazia È una mela avvelenata Con il topicida È pieno di topi qui dentro e volevo liberarmene Ci ho messo tanto di quel veleno Che basterebbe ad ammazzare una dozzina di persone come minimo Ah, come potevo immaginare che con tutte le mele che ci sono sugli alberi Proprio qui venivi Anna Marilla! Mathew! No, non voglio Eppure so bene di non avere la minima speranza Diana! Devo riconciliarmi con lei Sono stata cattiva nei suoi confronti Devo cercarla e chiarire tutto E se morissi durante il cammino? Oh, sarebbe orribile salare l'ultimo respiro nella solitudine del basco Fra non molto, rientrando a casa Marilla e Mathew mi troveranno già cadavere Oh, non posso pensare che devo dire addio a tutto ciò che ho di più caro Che presto ogni cosa finirà per colpa di una semplice mela È ingiusto che sia così Non voglio morire Fate qualcosa Non voglio Aiutatemi Non morirò da vigliacca Anna Shirley Devi tenere alto il nome della famiglia Shirley e dei Calvert E sia Se devo morire tanto vale che lo faccia a letto Oh, non ciò che dobbiamo Chissà quanto ci vorrà. Gerry ha detto che il veleno potrebbe uccidere una dozzina di persone. Quindi deve essere potente. Ma quanto ci vuole perché entri in circolazione? Tre quarti d'ora? Magari anche di meno? Oh, come sono stata felice fino a qualche attimo fa. Spero di avere il tempo per scrivere due righe ai Calbert e anche a Diana. Diana dovrà rimpiangere la mia morte. Dovrà rimpiangerla tanto. Anche se buona parte della responsabilità per il litigio di prima ce l'ho io. Oh, non ho il tempo per scusarmi. Come sono fredde le mani. È un sogno che si avvicina all'ora della morte e forse il viso è già cianotico. Oh, lo sapevo, ha un aspetto cadaverico. Non ne avrò per molto ancora. Non me la sento di morire. Però se deve succedere, almeno cercherò di farlo nel modo più dignitoso possibile. Cara Diana, io sto morendo. Ho mangiato una mela che Gerry aveva cosparso di veleno per topi. Non mi vedrai mai più e ti scrivo per farti sapere che ti voglio sempre bene. E anche che sono molto pentita di quanto ti ho detto oggi. Mi dispiace, Diana. Comunque ora non ha più importanza, visto che non potrò né sposarmi né vivere con te. Oh, Diana. Che disgrazia. Ma ancora non sento niente. Ma non so cosa avverrà appena il veleno entrerà nel sangue. Gerry ha detto che su quella mela c'era veleno sufficiente ad uccidere una dozzina di persone. Penso che non vivrò ancora a lungo. Addio per sempre, Diana. E non dimenticare mai la tua amica che un destino crudele e maligno ha fatto morire giovane. La tua amica del cuore a nascirli. Oh, Diana. Anna, Anna, Anna. Anna, dove sei? La stufa è spenta. Che avrà combinato? Io sto per morire, Marilla. Che? Gerry ha messo del tuo pc da su una mela. E io l'ho mangiata. Da un momento all'altro il veleno farà il suo effetto e io morirò, Marilla. Anna, cos'è un altro dei tuoi scherzi? Ma come puoi parlare così? Secondo te una persona che sta morendo può aver voglia di scherzare? Ti prego di leggerla più tardi. E questa qui è per Diana. Anna, non mostrare a nessuno il mio viso quando morirò. Non voglio che mi vedano con il volto cianotico. Anna, quanto tempo è passato da quando hai mangiato la mela? Circa un'ora, mi pare. Se la mela fosse stata avvelenata, saresti già morta. O almeno ti contorceresti in preda a dolori lancinanti. Beh, però qualche dolorino allo stomaco, già lo sento. Come mai non avete acceso la lampada? Matthew, dove sta Jerry Butt? Ecco, veramente, è nella stalla o forse è già tornato a casa. Come ti sembrava? Come al solito, almeno mi sembra. Anna, vieni con me. Jerry, Jerry Butt! Che c'è? Sono qui. È vero che Anna ha mangiato una mela avvelenata. Ah, la mela! No, Anna, era solo uno scherzo. Infatti, ci avevo pensato. Trovo di pessimo gusto fare scherzi del genere, sappilo. Beh, veramente, io mi ero lasciato quella mela stupenda per dopo il lavoro e quando gliel'ho vista mangiare ho pensato di vendicarmi. Allora ti sei preso gioco di me? Scusami, quando sei andata via così preoccupata avrei dovuto rincorrerti e dirtelo. Ma credevo che lo avresti capito da sola. Sei un idiota, Jerry, non ti perdonerò mai. Stai calma! Smettila! Un'altra volta impari ad essere golosa. Ehi, Jerry, vieni qui! Aspetta, Anna! Calmati! Fermati! Ti ho già chiesto scusa! Però, Marilla, io avevo veramente dei dolori allo stomaco. Eh, lo credo bene. Con tutto il tempo che sei stata a piangere era il minimo che ti potesse capitare. Mi viene in mente una cosa, Anna. Ho incontrato la signorina Stesi venendo qui e si stava dirigendo proprio da noi. Anna, mi ascolti? Ah, ho capito. E che cosa voleva? Mi meraviglio di te, Anna Shirley. Dove hai imparato a rispondere così sgarbatamente? Veniva per me? Proprio. Oh, credo di sapere perché. Avrei dovuto dirtelo prima, Marilla, ma mi era completamente passato di mente. La signorina Stasi mi ha sorpreso ieri in classe mentre leggevo Ben Hur invece di studiare. Forse veniva per parlarti di questo. È stata Jane a prestarmelo. L'ho iniziato nell'intervallo ed ero arrivata alla corsa delle bighe. E volevo assolutamente sapere come andava a finire. Anche se a dire la verità ero sicura che Ben Hur avrebbe vinto. Non poteva essere altrimenti, capisci? Era lui l'eroe. E gli eroi vincono sempre, in tutti i romanzi. Così ho messo il libro di storia sopra il banco e ho sistemato il Ben Hur fra i ripiano e le ginocchia. Ero così intenta nella lettura del romanzo che non mi sono accorta della signorina Stasi che avanzava fra i banchi. Finché, alzando gli occhi, me la sono trovata da manti che mi guardava. Sapessi quanto mi sono vergognata, specialmente quando ho sentito Josipai gongolare. La signorina Stasi si è presa il libro di Ben Hur senza dire nemmeno una parola. Alla fine mi ha chiamato in disparte avvisandomi di non fare mai più una cosa simile. Stavo così a disagio che per penitenza le ho promesso di non toccare più Ben Hur per un'intera settimana. Glielo prometto, signorina, non lo toccherò più per tutta la settimana. E poi la signorina Stasi ha sorriso e ha detto che mi perdonava di cuore. Perciò mi sorprende che si comparti in modo così poco gentile venendoti a parlare di questo. La signorina Stasi non me ne ha fatto assolutamente cenno. È solo la tua coscienza sporca che ti rimorde. Mi auguro che non porterai più romanzi a scuola. Passi fin troppo tempo a leggere sciocchezze. Marilla, ma come puoi dire che Ben Hur sia una sciocchezza quando il suo contenuto è persino religioso? Forse, ma in fin dei conti non è che fantasia. Non è certo un testo che si potrebbe adottare nella scuola domenicale, questo è vero. Perciò lo leggo durante la settimana. Basta, mi è venuta voglia ad andare a letto. Ho gli occhi e le orecchie stanche. Sembra che non ti interessi sapere ciò che ha detto la signorina Stasi, eh? Del resto, tu preferisci ascoltare la tua voce piuttosto che quella degli altri. No, non è vero, Marilla. Mi interessa sapere. Non dirò più una parola, te lo giuro. Parla, sono tutta orecchi. La signorina Stasi vuole organizzare un gruppo di studenti da preparare per l'ammissione all'Accademia di Queen fra chi intende continuare gli studi. Si tratterebbe di rimanere a scuola per un'ora di lezione supplementare. Ed è venuta per chiedere a Matthew e a me se eravamo d'accordo che tu facessi parte di questo gruppo. Tu che ne pensi? Vuoi proseguire gli studi ed entrare all'Accademia di Queen? Oh, Marilla, non potevi darmi notizia migliore. Mi interessa da quando Ruby e Jane hanno cominciato a parlare della loro intenzione di andarci. E inoltre lo faranno anche Diana e Josie Pai. Ma finora non ti avevo detto niente perché ritenevo che fosse un sogno irrealizzabile. Ci terrai a diventare insegnante, ma non sarà troppo costoso per voi. Il signor Andrews dice che gli costerà parecchio iscrivere Prisley all'Accademia e Prisley non è una frana come me in geometria. Tu non devi preoccuparti di questo problema, Anna. Quando Matthew e io abbiamo deciso di prenderti qui al tetto verde sapevamo perfettamente di dover fare del nostro meglio per darti una buona educazione. Non è vero, Matthew? Sì, certo. Puoi stare tranquilla, Anna. Ora, credo che una ragazza debba potersi guadagnare da vivere e questo indipendentemente dal fatto che abbia bisogno oppure no. Tu avrai sempre la tua casa qui finché Matthew e io saremo vivi. Ma nessuno può ipotecare il futuro. Viviamo in un mondo di incertezze, quindi è meglio contare sulle proprie forze. Se ti va, entra pure nel gruppo che si prepara per la missione all'Accademia. Oh, Marilla! Oh, Marilla, grazie! Non è possibile! Mi sembra di star vivendo un sogno meraviglioso. Ti sono grata! E grazie anche a te, Matthew. Non dimenticherò mai questo momento. Studierò con il massimo impegno e farò sì che siete fieri di me. Però non eccellerò mai in geometria. Mentre sono certa che studiando me la caverò in tutte le altre materie. Sicuro? Scommetto che saprai farti onore. La signorina Stesia afferma che sei intelligente e anche diligente quando vuoi. Ti ha detto davvero così? Più o meno. Ma adesso non c'è alcun bisogno che tu ti consumi sui libri. Ci manca ancora un anno e mezzo agli esami di ammissione. Anche se sarà bene cominciare per tempo, come ha detto la signorina Stesi, in modo da arrivare preparati. Mi dedicherò allo studio con maggiore interesse perché ha uno scopo nella vita da ore in poi. Il signor Alan dice che tutti debbono averne uno e che esso va perseguito a costo dei più grandi sacrifici. Solo che bisogna essere sicuri che si tratti di uno scopo per cui valga la pena. E diventare un'insegnante come la signorina Stesi vale la pena, no? Sì, sono d'accordo. Io spero solo che quel giorno arrivi il più presto possibile. Ho un po' di paura, ma sono certa di farcela. E pensare che oggi mi ero disperata tanto per colpa di quella mela. Perché? Che è successo di così terribile? Ecco, Matthew, Anna... Oh, non dire niente. Adesso parliamo solo di cose allegre. Già oggi ho litigato con Diana. Discutevamo del nostro futuro e non ci siamo trovate d'accordo. Purtroppo capita anche a noi delle volte, ma oggi è stata colpa mia. Devo andare a scusarmi. Mi sembra piuttosto tardi. Lo sai che ora è. Vacci domani. D'accordo. Lo farò domani. In fin dei conti non è così urgente, ma forse potrei... Certo, un segnale dalla finestra. Dove vai, Anna? Che cara bambina. Oh, Diana, sono sicura che ne sarai felice. Il nome è Anna, il cognome è Anna. Soltanto Anna dai capelli rossi. E come le piume, come le piume, come le piume dei petti rossi. Ha detto che si chiama Anna, mi sembra Anna. Soltanto Anna dai capelli rossi. Chi è quella bambina, tutta sola, che non fa che chiacchierare, poi sogna di volare. Ma chi sarà, ma chi sarà, chissà, chissà. Il nome è Anna, il cognome è Anna. Soltanto Anna dai capelli rossi. E come le piume, come le piume, come le piume dei petti rossi. Grazie. Grazie. Grazie.